Sei nuove positività al Covid-19 in Abruzzo che risentono dei casi registrati in provincia di Chieti. Sono dunque 3.342 in totale le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza, ma è proprio il capoluogo teatino nelle ultime ore ad essere sotto la lente di ingrandimento. Ho voluto stabilire un punto fermo che è quello che mi veniva dalle informazioni assunte dalla ASR, cioè vi era una prima refertazione che parlava di 5 persone contagiate dal coronavirus, una di queste ricoverata presso il reparto di malattie infettive del nostro nosocomio. E ho voluto soprattutto far capire a tutti che non è vero che è tutto passato, che come purtroppo abbiamo avuto dimostrazione ci si può ancora ammalare di coronavirus, si può ancora essere contagiati e quindi se è vero che dobbiamo tornare tutti alla normalità e a gran forza dobbiamo pretendere che si torni alla normalità, questo non vuol dire poter abbassare la guardia, questo non vuol dire poter liberarsi delle mascherine quando si è in luoghi chiusi, negli uffici, in un negozio, piuttosto che con delle persone. Questo vuol dire soprattutto non fare assembramenti, perché devo dire altresì che oltre alle 5 persone contagiate abbiamo oggi dovuto registrare la quarantena per 30 nostri concittadini i quali sono entrati in contatto stretto con queste persone. Nel caso in cui si avessero sintomi va chiamato il medico di famiglia il quale provvederà a richiedere alla ASR un tampone per sicurezza. Io personalmente ho parlato con il direttore Shell e con il responsabile del servizio Torzi i quali mi hanno dato assicurazione e rassicurazione sul fatto che laddove dovessero giungere delle richieste di tampone provvederanno immediatamente, questo perché è intenzione di tutti circoscrivere da subito il possibile perimetro del contagio e evitare che ci sia non soltanto una propagazione mediatica ma anche virale, che è la cosa più importante di questo fenomeno. Io dico che deve creare maggiore attenzione, cioè deve mettere in testa a quelli che con poca intelligenza hanno pensato che tutto fosse finito che invece bisogna continuare a stare attenti. Per quanto riguarda il resto, dalla regione 13 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, zero in terapia intensiva, mentre gli altri 108 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 468 sono i pazienti deceduti, le ultime 24 ore non hanno registrato dunque nuove vittime, 2.753 i dimessi e i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 121 con un aumento di 4 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 119.651 test. Del totale dei casi positivi, 245 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 832 in provincia di Chieti, 1601 in provincia di Pescara, 636 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per due casi non è indicata la provenienza.